Fa ancora discutere Alan Friedman. A picchiare duro contro il giornalista statunitense ci pensa Giorgia Meloni. Nel mirino la frase vergognosa su Melania Trump definita da Friedman una escort. Salvo poi difendersi dicendo che è stata solo una battuta infelice. Non per la leader di Fratelli d'Italia però. La Meloni infatti ha pescato commenti simili e pubblicati tutti sulla sua pagina Twitter. Quello di Alan Friedman non è stato un incidente. Ha l'abitudine di twittare contro Melania Trump definendo la escort. Ha tuonato a corredo dell'immagine. Ma per la sinistra va bene così. Denigrare una donna di destra fa parte dei loro metodi e rivedremo presto Friedman in tv a diffondere altre menzogne e veleno. Sotto le varie uscite del democratico giornalista che ha sempre sparato a zero contro la moglie di Donald Trump.